Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio, Pikasauro e Vanu, e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con il secondo appuntamento con Gran Festa. Oggi andiamo ad aprire la collezione Pikachu con questa cosa bellissima, queste quattro carte che formano un artwork completo, davvero davvero super bellissima. Ma poi queste si giocano? Certo. Ragazzina, prima di iniziare questo video, noi come al solito vi invitiamo a lasciare un grossissimo like in su e mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordiamo che sopra la testa di Marco vi lasciamo, io direi di fare proprio una playlist Gran Festa, magari vediamo un po', comunque i spacchettamenti vi lasciamo sopra a Marco, dove potete trovare il scorso video che abbiamo aperto, niente po' di meno che... 25 anni di train on. Va' buono! Mi raccomando, vi lasciamo sotto in descrizione i link se li troviamo per acquistare questi prodotti, quindi se li volete prendere li potete trovare sotto in descrizione. Basta. Andiamo ad aprire il Pikachu! Allora, eccoci qui, vabbè, il box è a dir poco clamoroso, c'abbiamo quella stessa texture che c'è stata sul... Sì, per tutti gli starter, eccola qua. Dicevo, c'è la jumbo gigantesca che raffigura l'immagine che si può fare anche con le quattro. Bellissimo, andiamo a vedere dietro che cosa ci dice. Allora, quattro carte promozionali di Pikachu V Union Gigante. Festeggia una nuova entesimante sfida Pikachu V, vabbè, vabbè, questo non c'è. Sono felice e contenti, che c'è dentro? Allora, ci abbiamo quattro carte promozionali grafiche che formano Pikachu V Union, una carta gigante di Pikachu V Union, uno di le carte aiuta della professoressa Magnolia, quattro buste da quattro carte di espansione Gran Festa GG Pokemon, due buste di espansione aggiuntive e una carta codice per il gioco. Va bene. Quante sono spunzioni di qua dentro? Ma, ma, queste qua sono così, di solito che stanno 6-7 perché... Dici, potevano fare un po' di più... Sì, una ventina. Almeno una ventina per gradire, c'è, inizia a scaldarsi. Allora, pronti. Vabbè, stavo riapponciare. Questo vediamo a Marcolino, abbasso un po' la camera, è la professoressa Magnolia, chissà. Allora, andiamo ad aprire. Al contrario, proprio, lo stesso Magnolia, niente, zero rispetto. Ah, proprio, indietro. Eccola, unidissima, poi, per questa carta. Unidissima, questa, per te, che è mancola di esposta. Così, per le facce il fuoco, è utile. Ma io guarda questi tipo, come se stanno a scemi, eh? Allora, iniziamo. Vabbè, che si vede che serve per giocare quelle quattro carte, ma... Sicuro. Vedi, vedi. Non pensavo fossi così intelligente. Ma quando sta facendo delle teorie, ragazzi? Guarda. Allora, cercano il Tomasso fino a due carte scattare, poi rifeschiate le carte del Tomasso. Ovviamente non c'entra a nulla Pikachu. Ma poi del 25 anno hai il 25 anni, però. Del 25 anno. Del 25 anno, ragazzi, comunque è l'inglessia. Eh, veramente. Allora, qua abbiamo le carte Pikachu che non si sa quanto sono belle, ma proprio non si sa. Ma tutti insieme cosa fanno? Eh, non lo so. Aumento unione. Questa c'è, a uno aumento unione. Qua due shock fulminante, 120. Poi abbiamo le parti sotto, che sono queste qui. Ci abbiamo disconnessione e energia collettiva. 250. Energiesfera collettiva. Poi andiamo a vedere la Jumbo. No, questo è una fatta vedere bene. In campo la Jumbo. Eccola. Oh, qui almeno possiamo leggere tutto. Vedi, ci sono tutti e quattro gli attacchi. Uno, due, tre, quattro. 300 punti vita totale. No, davanti sono divertenti, c'è sta il Pikachu Trolle, c'è sta il Pico Ciccio Bombo. Sì, sono tutti i Pikachu riusciti sulle carte. Mi sembra che manca il primo. Il primo non c'è. No, ma non so alcuni, perché saranno usciti 3 miliardi. Comunque, bellissimo questa c'è la mattina. Ok, dopodiché, pacchettozzi. Allora. Allora, qua ci abbiamo. I primi di tre che ci abbiamo. Fragoreri Belle non manca mai, hanno deciso che ce ne aveva stato. E c'è pure un portaggio sfolgorante. Grazie, stavate sfolgorante a tratti allucinante e altre due di queste qua. Allora, vabbè, in questo spacchettamento, visto che abbiamo due box uguali, avremo io e Marco. Ancora il prossimo con mano. Quindi Marco, scegliete quello che vuoi, ci abbiamo due di quelli. Allora, a me mi ha lasciato a portaggio sfolgorante. Invece io c'ho fragoreri Belle. A tratti allucinante. Non mi ricordo che c'è questa marca, l'hanno aperto tantissimi, perché ci scordiamo tutto. Tanto non ci interessa. Qualsiasi cosa sia la buttiamo. Non c'è niente. Piggyback. C.Dot. Sand Hill. Joltik. Ferroseed. Energia. Psico. Crotrof. Staff Lega. Macargo. Tilo. Molto carino. Bello. E tu? Bello. E tu Gannon. Ok, io vado direttamente con questo. C'è un po' di staccare, guarda. Ma guarda, io secondo me... Ne ritroviamo. No, la vedo proprio difficile. Sono rari. Ma Marco diceva, no, ma tu te l'avamo. Regà, io ho visto che non hai aperto i 5.000. Ma dai, 5.000 è impossibile. Regà, ha trovato dentro a quel box lì 2 Charizard 3 Blastoise. Poi ho smesso. Io ho capito, ma trovo solo quelli. Comunque c'è qualcosa. Ma aspetta se che non ci mancava. Se che non c'aveva la mano, c'aveva la mano. Ma non c'aveva la mano. Non c'aveva la mano. Non c'aveva la mano. No. Allora, non c'aveva la mano. Quanto c'aveva la mano? Quanto c'aveva la mano? Eh, manca soltanto la P-Max de Coso. Di Groself. Pronti. Cosa c'era? Sì, sì. Cosmo... Questo non so proprio che cosa sia. Ma sai che è Pikachu? Mio? Mio. 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 Ah. Bello. Bello. Che gli dimiti? E dietro? E niente. Niente. Mio X è la ristampa ultra mega figa. Not bad. Bello. Va bene. Dai, Marco Litt. Aspetta. È bello. Eccoci qua. Mentre la mette a posto tutto. Vai. Scusiamo. Questo che... Sì, è per soltanto Maria. Vai. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Niente. Questo è l'amico di Emanuele, no? Quello primo. Phantom, Dripi, Farfaccio di Cavante. È bello sto artwork. Super Mega Honnish. Energia Fuoco. Dubla. Du Spade. L'Ombre. Quello spagnolo. Upgrade. Magic Carp con uno dei Pikachu che sta lì dietro. Sì. E niente. E barba scura. Ah, sono finite? Sì, le barba scure. La luce. Aspetta, mi pensavo. Non so di farlo. Adesso fa pure bruciato. Fa una versione del picture, ma di quelle proprio importanti. Fa pure bruciato il resto. Vorrei fare un rito. Vai. Troviziatorio. La tomba che fa. La tomba non trova più niente. Non si ritrini di carne. Zero, proprio. Non so. E? Niente. Niente. Pro è blu. E quindi? E c'è sta chiare. E dietro? C'è niente. Uuuuuh. Ecco qua. Io che manco me lo faccio vedere. Ho fatto una tomba su piccaccio. C'è uscito un piccaccio. Tira fuori c'è niente. Eccolo qua. Arriva. Eccolo qua. Magomba su c'è niente. All'epena. 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 Niente qua. Niente magomba. No magomba non pare. No c'è un po' più niente. Ma il quale è stato strano è comunque. Eh si vedi. Dai. E' tentenna. Tenente del rocket. E poi? Dietro? Che bella. Eh. La volevamo proprio. Questa ce l'avevamo già. È un full latte ce l'avevamo. E dunque cari ragazzi. Anche per questo video è davvero tutto. Come al solito vi mi chiamo ad iscrivervi al canale. Prepari sulla campanellina per restare sempre aggiornare su tutte le nostre uscite. Se questo video vi è piaciuto. Almeno mi è piaciuto. Un miliardo di like. Come tutti questi Pikachu qua. Eccoli qua. Mi raccomando. Fatevi sapere se questo video vi è piaciuto. Se anche voi state sbustando. Taggateci su Instagram. Lasciate un commentino. Fate tutto quello che vi pare. Posso mettere dislike. Posso mettere dislike. Qui da Visio. Da Marco. E domani. È davvero tutto. No vi mandiamo. Un grosso saluto. Aspetta aspetta aspetta. Ma combe. Ma combe. Ma combe. Ci vediamo per Charizard. Fai io lo vedete. Adesso? Eh si perché la prossima volta. Speriamo. Tra l'altro non lo apro nemmeno io. No lo apro io. Lo trovo io. Lo trovo qua. Tutto il tuo.